One, go! One, go! Thirty seconds! Fanno 30 minuti! È terribile! Forty seconds! Ma si sta dominando! Ten seconds! Ha superato 200! Vai! Stai a 200! Quasi quaranta! Five! Four! Tre! Due! Uno! Fermati! Three, two, one, go! Che dice? Che cosa dice? Ma gli parla pure! Ma ma questo parla! Si carica! Ti gira! Ti gira! Ti gira! Ti gira! Ti gira! Questo ragazzo si rompa in me. Questo non si fa parte! Thirty seconds! Vai, vai, vai! Vai, vai! No, no, no! Eh! Non si sa! Non si sa! Non si sa! Quanti secondi mancano? 1, 4, 3, 2, 1 Fermo! Fermo! Bravo! Bravo, mamma! And the winner is... I will start with Naveen. The record to beat is 270. Naveen successfully broke 239 nuts. 239! In Mohammed's attempt, we got a total of 254! Bottİstation Game! What love? It's Gillian for the records title. Rap! Oh! If you do this success later, 받 right in Honor In England didn't. Yeah The sonraki Win Is No Grazie a tutti.